perché il nuoto purtroppo è uno sport bastardo da questo punto di vista perché bastano due o tre giorni al di fuori dell'acqua che rientri in acqua il quarto giorno che ti sembra di essere il primo giorno di scuola di nuoto perdi un sacco di sensibilità ti muovi in una maniera che non ti sembra comunque più coordinata nella maniera corretta e questo purtroppo ci obbliga a cercare a dover stare in acqua tutti i giorni comunque possibili a parte magari la domenica giustamente dove anche noi stacchiamo però tutti i giorni della settimana e magari qualche giorno anche con i doppi allenamenti sia mattina che pomeriggio in acqua fa sì perché questo è necessario per mantenere quello che è a livello di sensibilità sempre alto